Dopo il matrimonio di Harry con Meghan Markle e quello di Eugenia. È arrivato il momento di festeggiare un altro royal wedding. Gabriella Windsor, figlia del principe Michael di Kent. Cugino di primo grado della regina, è convolata a giuste nozze con Tom Kingston. Un matrimonio in pieno stile royals, celebrato nella cappella di S.T. George del Castello di Windsor, con tanti ospiti illustri, fra cui, ovviamente, The Queen. La prima ad arrivare è stata proprio la regina, che per l'occasione ha sfoggiato un completo rosa con cappellino abbinato. Splendida la sposa, Lady Gabriella, che è apparsa raggiante. Fasciata in un abito bianco firmato dalla stilista italiana Luisa Beccaria. Per l'occasione, la biondissima principessa, ha scelto una creazione in tulle e pizzore brodè. Con un lungo strascico, senza dimenticare la tiara appartenuta alla nonna. Fra gli ospiti molti membri della famiglia reale a cui Lady Gabriella, scrittrice 8girl, è molto legata. A percorrere la strada sino alla cappella di S.T. George. La principessa Anna, elegantissima in un abito oro e blu. Presente anche Pippa Middleton, con il marito e tutta la famiglia al completo. Lo sposo, Tom Kinston, è infatti l'ex fidanzato della sorella di Kate. E i due sono rimasti in buoni rapporti, tanto da partecipare ai rispettivi matrimoni. In ritardo Kate Middleton, che aveva annunciato la sua partecipazione o l'evento. Come sempre elegantissima, Pippa Middleton ha sfoggiato un abito azzurro. Abbinato ad un cerchietto in velluto dello stesso colore, ed è entrata nel castello tenendo per mano il marito. James, il fratello di Kate e Pippa, è arrivato al castello di Windsor insieme ad Alizia e Tevena. La sua nuova fidanzata, presentata qualche giorno fa su Instagram ha i numerosi fan. Come era prevedibile, Meghan Markle ha deciso di disertare la cerimonia. Nonostante si svolgesse a poca distanza dal Frogmore Cottage, sua residenza. La duchessa è rimasta a casa con Archie, mentre Harry ha partecipato alle nozze in compagnia dell'attrice Sophie Winkleman. La moglie di Lord Frederick, il fratello di Lady Gabriella Windsor. Non poteva mancare Sarah Ferguson, che per l'occasione ha scelto un completo rosa ed è apparsa sorridente mentre chiacchierava con la figlia Beatrice di York. Ribelle e bellissima, Lady Gabriella, ha ereditato l'eleganza da Marie Christine von Reibniz, sua madre e baronessa di origine cieca. Con Tom Kinston, uomo di affari e storico ex di Pippa Middleton, è stato amore a prima vista.